Bentornati su Mandorlice, io sono Stefania. Oggi prepareremo insieme un piatto coreano adatto ad ogni occasione, il ghiacce jam o panchiecca alle verdure. Arraffate qualsiasi verdura abbiate in frigo e partiamo subito. Abbiamo bisogno di cavolo cappuccio, carote tagliate a listarelle, cime di cipollotti, cipolla, farina e acqua. Le dosi le trovate in descrizione. Il classico panchiecca coreano è molto sottile perché generalmente è costituito da più verdure che farina. Facoltativo, per dare un tocco di colore in più, aggiungiamo della curcuma in polvere, un pizzico di sale per insaporire e mescoliamo. Nel mio caso ho aggiunto della farina extra. Preferisco che il panchiecca coreano sia leggermente più spesso, ma non troppo, mi raccomando. Amalgamiamo bene il tutto e versiamo il composto in una padella molto calda, cercando di stenderlo uniformemente. Cuociamo a fiamma media per circa 3-4 minuti, fino a quando il pancake coreano scivolerà liberamente nella padella. A questo punto capovolgiamolo con l'aiuto di un coperchio e cuociamo l'altro lato fino a doratura desiderata. Pronto il pancake coreano, tagliamolo come più preferiamo, a spicchi oppure a quadretti. Serviamolo con una salsa a base di salsa di soia, aceto di riso, miele, peperoncino fresco, i semi di sesamo tostati. E siamo pronti per gustare il nostro snack coreano. Yace John è formato da yace, verdure e john, il termine generico per panchette. Il yace john viene spesso consumato come spuntino, visto la rapidità di preparazione. Ottimo da servire per aperitivi o antipasti. A me ricorda un periodo bellissimo della mia vita in cui lo prendevo da sporto in tarda serata insieme alla mia amica Taki e passavamo alle ore successive a spizzicare guardando drama coreano. Spero che anche per voi possa diventare un cibo che evochi i ricordi di serate studente. Come sempre mi auguro che anche questo video vi sia piaciuto, grazie per il tuo tempo e alla prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.